Stesso funzionamento di ieri 6 ripetizioni, 4, 5, 6, 3, 2 secondi e 4 Cambio, 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 tranquillo, cambio 3, 15, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8 Ba 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 Met faccio ou frente Metaccio,キ Siamo qua, vado io in rotazione e dobbiamo andare in avanzamento, questo è l'esercizio. Siamo qua, vado io, vado io. Siamo qua, vado io, vado io. Siamo qua, vado io. Siamo qua, vado io, vado io, vado io. Siamo qua. Siamo qua.